Anni sul doppio chilometro, sono in dieci, otto in prima, due in seconda, netto favorito Schmock di Piaggia, c'è Antonio Di Nardo in Salchi, in questo targato Piaggio, mezzo meccanico in movimento, andiamo a vedere un po' il premio, eh, pasta e fagioli, niente male, allineamento completato, prende velocità la macchina, Siria del Ronco e Salvatore si ritrae Schmock di Piaggia, insiste e Salvatore chiede strada e passa all'attacco della piegata e ora già fila indiana, nelle prime posizioni anche squalo oggetto, in seconda posizione Siria del Ronco, 200 iniziali in 15 e mezzo e Sirio si affaccia e va sul Salvatore, chiede strada dal Ronco, pedinato da Schmock di Piaggia, 31,2,400 e ora sarà un freeway anche per il targato Piaggia, infatti bussa, chiede strada e Schmock senza fumare molto va al comando, 46,7 i 600, con Schmock di Piaggia al comando, viene via Santos un po' insofferente, andatura blanda tutto sommata per la categoria, il mezzo miglio iniziale in 1,4 e c'è la puntata interessante di Sailor AS che va a muovere un po' le acque e Sailor va su Schmock di Piaggia, lo costringe ad allungare, primo chilometro in 18 e 9, notevole questa frazione davanti alle tribune in 14 e 6, i cavalli che affrontano la penultima curva, Sailor AS alle prese con Schmock di Piaggia, poi Siria del Ronco, Salvatore viene via anche Special One LF, 16 in piegata, viene via anche Sky OK, si forma una seconda fila a largo, in pole position il 5 e il 10, paletto dei 600 finali, di fronte la frazione in 14 e 7 e per il momento Schmock argina l'arrembante Sailor AS, i cavalli affrontano la curva finale, allunga Schmock sotto la minazza del targata S, 2 e 3 e mezzo il miglio, controlla ancora bene the situation, almeno sembra il leader, non c'è spazio per la Siria del Ronco, Schmock di Piaggia al comando, generosamente Sailor a largo, Siria di dentro, allunga Schmock, prende vantaggio, viene via Special One LF, Special One, i cavalli sono in zona, Siria trova il barco, cavalli in zona traguardo, Siria del Ronco, stampa, a fil di palo l'avversario, come ha trovato la luce, come ha trovata la luce, si è accesa la lampadina, stampa proprio sul palo, 1 e 16, 2 e 32, 5 e 35, stampa l'avversario proprio sul traguardo. Per il terzo andiamo un po' più avanti, ottimo Special One, non è Murigno, ma è il targato LF, linea allo studio.